Entrambe ci siamo chiesti se a settembre sia necessario chiedere anche una riduzione d'orario o nel mio caso prendere meno lavoro e questo dispiace perché nel 2024 che una donna debba pensare di diminuire il carico di lavoro o chiedere un part time per poter tenere il bimbo è veramente secondo me anacronistico. E' così nata da due mamme la petizione per chiedere più asili nido per Arezzo. Siamo trovate in questa situazione di dover provare a descrivere i bimbi al nido insieme. Entrambe siamo rimaste escluse e quindi abbiamo lanciato questa petizione perché poi ovviamente nel giro delle mamme in tante siamo nella stessa situazione. La petizione online è rivolta direttamente alla vice sindaco Lucia Tanti e alla direttrice dell'ufficio scuola. Noi vorremmo una risposta che non è ancora arrivata, istituire un dialogo che sia costruttivo, che veda una progettualità a breve termine e che se il comune non riesce nell'immediato di settembre rispondere a un'esigenza che almeno ci aiuti a una soluzione alternativa. Cosa che invece non abbiamo perché nella fascia dei lattanti il comune ha diciamo incamerato anche gli asili privati. Quindi anche se una famiglia avesse la disponibilità economica per poter pagare la retta privata non può perché non ci sono posti. Quindi siamo proprio a piedi. Dito puntato contro anche la cosiddetta quota nonni. Si dà per scontato in pratica che i nonni possano adempiere al ruolo oltre che di nonni anche di educatori. E questo ci sembra svilente sia nei confronti della professione degli educatori, delle maestre, ma anche di quella dei nonni che comunque sono un brane prezioso ma non devono andare a sostituire. Sono già oltre 400 le firme raccolte.